Gli agenti della squadra mobile della questura di Pescara agli ordini di Dante e Cosentino hanno arrestato i presunti autori di quattro rapine messe a segno ad agosto in alcune farmacie del capoluogo adriatico. Le indagini della polizia hanno consentito di identificare due persone che a vario titolo avrebbero avuto ruolo nei colpi del 9, 15, 18 e 20 agosto. Gli arrestati sono Vincenzo Camplone, 52 anni, e Alessandro Di Rosa, 37, entrambi pescaresi. Devono rispondere del reato di rapina per i colpi che crearono allarme sociale. Una terza persona è stata indagata in stato di libertà. I due uomini sono destinatari della misura degli arresti domiciliari richiesti dall'APM che ha coordinato le indagini Silvia Santoro ed emessi dal GIP del Tribunale di Pescara, Elio Bongrazio. Di Rosa, ricoverato in ospedale, è ai domiciliari al Santo Spirito. Secondo le risultanze investigative sarebbe stato lui l'autore delle rapine commesse il 9 agosto alla farmacia di Gian Berardino di Via del Santuario, della tentata rapina del 15 agosto alla farmacia Zenobi di Piazza San Francesco, quando il titolare reagì mettendo in fuga il malvivente, e del 18 e 20 agosto alla farmacia di Burtina. Camplone avrebbe invece partecipato solo alla tentata rapina di Ferragosto alla farmacia Zenobi. La svolta delle indagini dopo la visione delle immagini delle telecamere è arrivata il 21 agosto, quando Di Rosa, andando a fare acquisti nella farmacia di Burtina, è stato riconosciuto dal titolare. Per questo la polizia si è presentata poi in casa sua, dove ha trovato e sequestrato un coltello a serramani, con le calze collant usate per travesarsi e la bicicletta da donna usata per fuggire. Di Rosa, messo alle strette alla presenza del suo difensore, ha reso poi ampia confessione. Per la rapina del 9 agosto risulta indagata in stato di libertà una terza persona, sulla quale sono in corso altri accertamenti.